Benvenuti su Ultimissima. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Perla Vattiero ha vinto il Grande Fratello 2023, battendo la favorita Beatrice Luzzi. Alfonso Signorini ha definito la vittoria di Perla come un risultato clamoroso. Beatrice Luzzi rompe il silenzio sulla vittoria di Perla al Grande Fratello, ringraziando prima i compagni, il padrone di casa e i fan per il loro supporto. L'attrice non perde l'occasione per ironizzare sulla coppia formata da Perla e Mirko, soprannominati i Perletti, augurando che il loro amore duri anche oltre il programma. Con umorismo, Beatrice commenta, ha vinto l'amore, speriamo che duri, oltre la finale. Esprime affetto verso i suoi sostenitori, affermando di aver ricevuto molto da loro e promettendo un presto ritorno. La sua battuta sulla relazione dei Perletti, che ha caratterizzato il Grande Fratello, diventa virale sui social. La nota attrice sottolinea con ironia la vittoria dell'amore nel reality show, mantenendo un atteggiamento composito. Il pubblico apprezza la sincerità e l'ironia di Beatrice, rendendo le sue parole virali online. Il commento di Beatrice sulla coppia evidenzia la sua capacità di osservare con leggerezza gli eventi del Grande Fratello. In conclusione, Beatrice lascia un segno nel post Grande Fratello con il suo spirito ironico e pungente, ricordando l'importanza dell'autenticità e dell'amore. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.